Siamo passando Perché dalla tezza parte subito e poi ci arrestiamo sempre pregando Vieni che stai rumando, dai! No, no! La mia mamma Damno Ok DMo La mia mamma Domine Jezu Christe, qui di Christi apostolis tuis, a ce mre lingvovobis, a ce mre anglobobis, qui vivis e drenias in secura secuobis. Axe Domini, si ce mberdobbidis bu, ero sirrii tutu la. Traya u 저�ers to, ero sirrii tutu la. Daja Uli esna o sen, eto siceremos methods, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.